Pubblico Passaggio raccoglie il grido d'allarme lanciato dai librai piacentini. Romano Gobbi della libreria Romagnosi di Piacenza parla al nostro microfono del momento non felice che stanno vivendo l'editoria ai piccoli librai. In Italia le chiusure di piccole librerie si susseguono al ritmo di una alla settimana. Noi abbiamo almeno una chiusura o due settimanali di ogni libreria. Adesso stanno chiudendo anche le grandi. Prima chiudevano le periccole e adesso cominciano anche le grandi. Abbiamo assistito ultimamente alla Coop che ha messo in cassa integrazione 40 persone. Stranamente poi ha messo in cassa integrazione però hanno comprato una libreria a Bologna. Questa è roba che ho letto dai giornali. Quindi siamo arrivati a un punto che un libro da 20 euro non può costare 80 centesimi o 90. Ha tirato troppo la corda perché la grande distribuzione vuole dal 50 in su per cento. Quindi io che sono editore vado a stampare un libro, lo offro, io faccio il 20. No, noi vogliamo il 50-60, raddoppi il prezzo. Ecco queste sono cose che non devono capitare. Poi magari la grande distribuzione lo vende anche a prezzi più bassi nel senso che un libro ti viene posto con il 15% sul prezzo di copertina che è lo stesso poi al quale lo vendete voi. Bravo, allora cosa capita? Che il cliente va al supermercato perché vede il 30, ma un 30 gonfiato non esiste il 30% in più. Non esiste questi prezzi qui. E noi non riusciamo a farci capire. Questo vorrei metterlo in particolare. I difensori dei consumatori, le varie associazioni, non ci hanno mai dato nessuna risposta. E noi abbiamo scritto tante volte. E voi avete presentato o volevate presentare un esposto all'antitrust? Lo faremo adesso, lo stiamo preparandolo. Ecco, se ha letto una nostra informativa, ultimamente siamo preparati l'antitrust italiana e antitrust. Però abbiamo già il timore che sarà tutto soppresso. Perché era già stata presentata... Troppi interessi in ballo. Troppi interessi in ballo. Quando c'è l'interesse, vince l'interesse e c'è niente da fare. Ecco, e bisogna vedere adesso com'è da finire. Adesso abbiamo cominciato a sullevare i problemi. Chiudono molto di più i librai, per cui vediamo se qualcuno... Perché riducendo il prezzo, se noi l'avessimo ridotto due anni fa, la gente avrebbe letto di più. Perché chi legge sono sempre gli stessi. Ecco, leggendo di più la gente è abituata a leggere. Oggi avremmo continuato a vendere. Mentre in Francia le librerie continuano a proliferare. Allora, vogliamo dirci il perché? Ecco, questa è la logica. E qui hanno in mano quattro grossi oligopoli, o come li chiamate voi, di grandi editori. E fanno quello che vogliono. I piccoli muoiono. Sono destinati a morire tutti. Anche le librerie. Oltre le librerie, anche i piccoli editori. Crisi a parte, Gobbi lancia anche un altro allarme relativo ai contenuti. La grande distribuzione impone agli editori gli argomenti dei libri da stampare. In modo tale da vendere di più, prescindendo dai temi trattati e dalla qualità. Queste grandi distribuzioni impongono a chi stampa di mettere, di stampare i libri che vogliono loro. A un certo punto ti danno il libro già confezionato e tu ho questo o niente. E rimani imbecille. Ed è giusto che sia così perché gli imbecilli si governano meglio.